Ciao amici! You are the ocean's great way Best entusi Ok, stronzata parte con oggi cominciamo per davvero la serie su FASINS e siamo i soliti tre stronzi e... e... cominciamo a cercare una partita Eh, Marron Mmm Cosa ne pensi della vita? Per favore Stavo facendo una cosa seria qui Siii Ma stai zitto, cartino Guarda che bella mappa non l'ho mai giocata Eeeh Chi potrei usare? Mancherebbe un damage Ah no c'è Avon C'è Avon Ci sono 74 healer se vuoi Puoi giocare un tank vero? Stavo facendo Non come Mago Merlì Va bene dai uso quello vero No no va bene no 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 voglio lui Va bene fai flanknando Se prendono Blushing per colpa ti picchia Ma sa che è probabile che lo prendano Comunque Avon Sa che lo prenderemo anche noi Blush il tanto? No io vado a dire Rekker e Rekker e anche Rekker se vuoi E anche Rekker davvero? Io... Perché non prendi anche Moral Boost già che ci sei? Comunque si Mi sa che vado a dire Allora pigliamo piglio io Cauterize Ok Ok Quella Yng aveva il modem 56k Visto che c'è Grok prendo il loadout del flank visto che manca effettivamente un flank Mi tocca partire di Moral Boost e non di... Nimble perché c'è Drogos C'è il Drogos Siamo tanto stanno a prenderlo tutti i Rekker contro il ciccio verde Signori ho paura che Grok sia un po' Ritardaggio A parte il ritardato che... Vabbè 9 su 10 Grok sono ritardati Però quello è Fk Coyote 87 Aspetta un attimo perché c'ho il mirino giallo? Coyote 87 No 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 c'è 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 Il provocato il muovo il cuo Cattivissimo Che palle abbiamo appena giocato questa mappa però era dall'altro lato quindi adesso continuerò a sbagliare Ye Cosa vai a fare il flank? Masi un punto tu Scusami No 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 Non tu C'erai con me? Si Ma ti ho detto io sono flank nun Oh cristo Non ha capito quello li ha aspettato a me Si è mosso finchè non m'ha visto Era bellissimo Grazie per avermi tolto dai piedi con la roma Eh sono anche motto Ma Grok i totem qualche volta... I totem non esistono Ho detto che i grok sono scemi C'hanno i lasur e quindi attaccano Lasur Adesso mi riscaldo e comincio a farle boiate Ho attaccano il lasur Ho attaccato Semo Semo dei lasur Au au All'ultimo secondo proprio T'ho curato io Ho visto Ying porca Quale? Non il nostro Dai Eevee Mi ha ucciso Ah Il loro Drogos Ahia Ma porca troppo Siamo morti tutti Eh Drogos mi Drogos mi targhetta Eh Grazie a cazzo Dovevi fare quello No che poi grok non è che non abbia raggio L'avevi sbagliato la raggio Eh lo so Lo so Scappa Bravo c'è No vaffanculo Mi ha preso lo stesso Non è giusto I'm here Ma tu mi rubi le kill Paco non hai capito Io stavo andando sul punto E quindi Ho premuto La La F Niente Sono andato su Drogos E l'ho ucciso Che cazzo L'avevo toto tutta la vita io Ma io sono andato a caso E' stato utile tirare il leggerli Complimenti per la morte Ti è Oh al nostro Torvald Almeno sa che deve dare un po' di scudo con il cable Chi c'è qui? Un bonking cattivo Lo dobbiamo punire Non toglietemi il divertimento però Eh ho capito Che stavo guardando io Non è vero Si Ciao Ing Si stavo laggando a bestia Che bello Perché tipo devo fare 376 quando non gioco con Google Quando dobbiamo registrare invece faccio a cagare al cazzo Ma tanto non stiamo riprendendo tu schermo che te frega Dillo la partita che ho fatto prima Eh Benissimo Però adesso scappo E io muoio invece Non è vero perché ci sono io Non so Come cazzo Perché Perché non sono morto? T'ho curato io Ah ok Arrivo io Arrivo io Ok Vabbè ok grazie Mi fanno andare dall'altra parte come volevo Cacchio Troppa gente Aia E infatti Ho minuto 200 crediti per non aver fatto un cazzo E vabbè Buono Non già Sistemato Si Vai via E sono morto Dai Che cazzo Dov'è Dov'è Guardiamola Eh Io sto provando a tenere da solo letteralmente Ecco Ecco E io sto un attimo da lontano perché se vado lì in mezzo credo A Vompiglia Bastardo Grazie Mi sa che si mi sia buggato il... siete morti? Sono morto Sono morto Allora Oh no Oddio c'è C'era Grock con le convulsioni qui Attento che il nostro bravissimo Torvald ha preso Rekker Perché lui fa tanto di quel danno Che l'ipotina con quel 50% di danno ha aumentato del 125% Vi tira giù Eh Ah no Ancora Rekker 1 Scherzone Eh Ci mancherebbe Questo qui è capace davvero di prendersi Rekker 3 Ssshh Perché Ssshh Perché Ssshh 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 Pnfnfj Ssshh Grazie Cos'è che mi sta colpendo No, caspio, sei messo in mezzo Quando ti stavo facendo la cozza Vabbè, tranco Bravo, drogoz Vai, vai Dico di stare bene Adesso sto bene Anche perché sono in chini di sprint E te l'ho anche curato Che cazzo di spaventi Me lo sono visto sotto Mi sta uccidendo Che resto Continuo a sbagliare la strada Porca droga Dai che sono impegnati Sono qua io I'm a rigging Tra l'altro ho la WP Oh cazzo, ciao scappo Sì, anch'io lo penso Oh là Vai Eevee Cosa pensavo di fare con Eevee? Boh Ci voleva intrappolare per il Per il bombing Penso Sì, è un po' tardino Bravissimo Dov'è il payload? L'arrivo anch'io No, no, io non so Andando a flancare Torvald Dove? Nel tunnel? Nel tunnel Sì, c'è anche Ying insieme a lui Grazie Grazie Avon Sì, sono tornati Sì, ma tanto non mi tirano giù lo scudo così Tiè No, baffanculo Dove c'è? C'è lo stesso Ma va bene che sei un flank e tutto Il payload Va bene che c'è un flank e tutto No, io sono un tank Teoricamente Grok? Dove? Perché è andato dall'altra parte? C'è Torvald Che attravesto il tunnel Tu resti Comunque io li ho demontati un po' Sì, vabbè c'è Ivy che viene qui a farsi uccidere Sì, esatto Non ha capito bene il suo ruolo La vittima è il suo ruolo Eh, in questo caso sì Io sto sponchillando È stupenda questa Sì, sì, intanto sto portando Sì, fai così Grazie, grazie Grazie Vai, vai, danni gratis, danni gratis Bene, Dai 3 1 Moral Boost 3 E passa la paura Dai, 18-6 sto facendo Avon Ti si è baggato tantissimo il suono E anche il robo del jetpack Solamente te lo fai Ed è bellissimo Così c'è l'audio sputtanato per chi guarda Ottimo, ottimo Cosa senti? Avon, ma secondo me è un termosifone a posto del jetpack? Lui è nello spazio a bordo di un termoseconto Sono in street da 12, bella lì E sai perché, eh? Troppo è 18 Sai perché va nello spazio? Perché? Perché le stelle sono tante Tante Milioni di milioni Come le groglie Nessuno c'era Dov'è il Lodovand? Volko po' comunque Ciao Drogots Stai cercando il Lodovand Perché ho il salvo carico Cacchio Ah, non mi ha visto Vabbè Beh, l'ha fatto l'ha visto Sei fatto Sì Bravo Bravo Aiuto Cioè Eevee Mi ha flencato Ed è morta E mi sta pronto Così non va bene Siamo qua io a grog Tranquillo Meno male Meno male Ho bisogno Di qualcuno Che mi dia uno scudo Tipo Tanti ho anche curato Sì, ho visto Grazie Paco Vai lì Io ho anche fatto Possione Lampage Oh, quella Igui C'ha la voce da Babbo a Natale Ciao Ing Sono qui per tenerti A distanza Perché sei un po' Di coglioni Ciao Come va? Tutta bene? Yeee Slade Oh, ciao Ditemi Quando sta arrivando Il Lodovand Perché Non so Il titolo Non lo so Ma Sentite Ora lo faccio E si va Stavo per uccidere La salsa Guardalo Ah, io mi stavo Già prendendo bene Per Avon Mannaggia Corri al drop Coseggi Mannaggia Tu Si per agg Avon Sei troppo povero Per lui Ma C'è stato Troppo l'area Ma io Non ha fatto Ci ha morti Tutti Sì L'idea Ah Unica volta che praticamente Abbiamo Abbiamo preso Però Però Stuga Uffa Non ho fatto nemmeno Una flank kill Che schifo Questa partita Per trecenti di danno Però Ho fatto Unice eliminazioni Va bene ragazzi E per oggi Direi Basta Perché abbiamo visto Abbastanza Ci vediamo Al prossimo Episodio Di questa Bellissima Saga Di Partite a caso Davo Non ho fatto più solo Kiss di te Ciao ragazzi Ciao ragazzi Ciao ragazzi Grazie a tutti.